buongiorno a tutti oggi vi presentiamo due coltelli uno dritto e uno curvo viene chiamato coltello spelucchino allora il primo che vediamo è proprio quello dritto è piccolo ha una lunghezza totale di 21 cm e la lama 11 cm sono dei piccoli coltelli che servono per lavori di precisione in particolare per tagliare sbucciare frutta e verdura le lame sono in un acciaio speciale formato da una lega che contiene cromo molibdeno e vanadio è un acciaio inox che garantisce prestazioni elevate e una lunga durata ecco qui lo spelucchino curvo questo è ancora più piccolo una lunghezza totale di 17 cm e la lama 7 cm questo serve proprio per lavori di precisione tagliare facendo petali o decorazioni su frutta e verdura il manico è molto resistente è un materiale sintetico conforme alle normative a tossico sterilizzabile lavabile in lavastoviglie che consente al coltello di essere molto pratico e leggero spero che vi siano piaciuti se vi interessano li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com iscrivetevi al nostro canale youtube per restare sempre informati ciao a tutti